Magie Noir Collection e Fede Morgana Arte. Per info, visita la pagina Facebook. E' un limbo calypso. Sempre questa roba che mi piace. Lo fa per me, Giuseppe. Ma quanto mi piace lavorare con Valentina, tu non lo sai. Ma guarda un po', vabbè. Senti, caro Kevin, invito per un nuovo partner, non ti preoccupare. Molto presto. Cosa fai, minacci? Sì, sì, minacci in diretta. Sì, sì. Vabbè, ma prima ci hai lasciato col fiato in sospeso. Ebbè, sì, sì. I nostri ragazzi si sono adoperati per una fantastica sfilata di moda. Sì. Scommetto con la complicità di una persona che conosciamo. Che conosciamo molto bene. Eh sì, perché ricordiamo che i nostri ragazzi sono anche aspiranti modelli. Sì, sì, infatti. E quindi oggi ci sta questa bella sfilata di moda. Vediamola. Sì. 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 Ma ti pareva che non c'era lo zampino di parantina. E tu mi avevi promesso che mi avresti fatto sfilare. Così, certo. Ma almeno avvisami. così mi preparo Valentina Guidi testimonial di questo testimonial io ringrazio Fede Morgana con il suo marchio Meginoir che possiamo trovare sulla sua pagina facebook personale la vogliamo ricordare Meginoir Collection by Fede Morgana lì potrete trovare tutte le sue creazioni è una sinistra emergente è una sinistra emergente è scritta il Conservatorio delle Belle Arti di Bari l'Accademia ma io sono abituato ai conservatori e beh certo, cioè la musica sempre in testa io ho la musica nel cuore, non in testa nel cuore allora ringraziamo Federica ringraziamo Rosi e questi splendidi abiti smoggiati dalle nostre belle ragazze e io ringrazio te per avermi dato la possibilità di sfilare ancora una volta ma scherzi, ma tu sei la pagina di casa anzi vedi qua Vale, perché tu sei meglio di me che arrivati a questo punto che cosa c'è, si gioca? chi sa cosa chi sa che c'è chi sa cosa chi sa che c'è chi sa chi sa Grazie a tutti